Il cuore di un sacerdote, di un pastore secondo Gesù, è un cuore libero per lasciare le sue cose, non guarda più a se stesso, ma è rivolto a Dio e ai fratelli. Non è un ragioniere dello spirito, ma un buon samaritano in cerca di chi ha bisogno. Lo ha sottolineato Papa Francesco nell'Omelia della Messa per il Giubileo dei Sacerdoti, celebrata in Piazza San Pietro, nella solennità del Sacro Cuore di Gesù. Il cuore del buon pastore, ha spiegato il pontefice, è la misericordia stessa, e ha solo due tesori, il Padre e noi. Così anche il cuore del pastore di Cristo conosce solo due direzioni, il Signore e la gente, l'incontro con la gente. E per essere come il buon pastore, il sacerdote deve innanzitutto cercare le sue pecore, senza farsi spaventare dai rischi, fuori dai luoghi del pascolo e dagli orari di lavoro. Non si fa pagare gli straordinari e non rimanda alla ricerca. Il guai dei pastori che privatizzano il loro ministero. Non è geloso della sua legittima tranquillità, legittima, neppure di quella. E mai pretende di non essere disturbato. Il pastore, secondo il cuore di Dio, non difende le proprie comodità. Non è preoccupato di tutelare il proprio buon nome, ma sarà calognato come Gesù, senza temere le critiche, è disposto a rischiare, rischiare, pur di imitare il suo Signore. Beati sarete quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, e così via. Quindi il pastore, secondo Gesù, non è un ispettore del gregge. Andando in cerca, trova, e trova perché rischia. È un decentrato da se stesso, centrato solo in Gesù. Poi deve includere, non escludere nessuno dal suo cuore, dalla sua preghiera e dal suo sorriso. Si sporca le mani e non conosce i guanti. E infine gioisce per il ritorno del figlio, per il perdono e grazie alla preghiera. Grazie per il vostro sì, ha concluso Francesco, a donare la vita, uniti a Gesù.